L'idea di lavorare con degli strumenti inventati mi ha colpito subito. Ognuno di questi strumenti è stato realizzato a partire da un elemento che rappresenta un progetto che la Fondazione Lavazza ha realizzato in Africa, Sud America e Asia. La Fondazione Lavazza Quello che mi interessa davvero è entrare in contatto con altre culture, quindi con altri sistemi di pensiero. In questo caso usare degli elementi così naturali, grezzi, per me è un po' come andare alle origini ancestrali della musica. Per me è lo scopo del viaggio. Il viaggio è andare oltre a quello che già conosco, confrontarti con altre culture ti dà un altro punto di vista sul mondo che ti circonda e su te stesso. Grazie. 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 Grazie.